Allora, commissario, il sindaco di Cammerino l'ha invitata qui per parlare insomma di problematiche concrete e puntuali. La risposta presente oggi di che cosa si parlerà? Beh, credo che si parlerà della nuova normativa sulle opere pubbliche, si parlerà delle perimetrazioni e di tutto quello che stiamo mettendo a regime. Noi riteniamo che entro Natale la strumentazione per la privata, che è già molto avanti, ma anche la strumentazione per la ricostruzione pubblica sarà completata in modo tale che tra la fine dell'anno e l'inizio del 2018 sia possibile far partire con le nuove procedure particolarmente veloci ed accelerate anche le opere pubbliche di Cammerino. E in più ci saranno problemi puntuali legati alla città e allo straordinario ruolo che l'università ha svolto e deve continuare a svolgere in questa fase di ripartenza. Io non mi sottraggo mai a questi confronti perché noi abbiamo oggi molti più elementi di qualche mese fa per poter dire che si può ricostruire, si possono fare molte cose, che ci sono gli spazi per tutti i livelli istituzionali per prendere delle decisioni che servono alle comunità. Lei ieri dopo aver partecipato alla Leopolda ha pubblicato un post che ha suscitato un po' le reazioni della gente, forse la positività che viene dalle istituzioni viene percepita ancora un po' come un rallentamento? Guardate, io ho tanti segnali in realtà, le scuole che partono, le prime opere pubbliche del commissario per i quali ho posto la prima pietra, capisco che chi vive singolarmente l'esperienza del terramoto non abbia la visione complessiva che ho io. In questi quattro giorni ho fatto quasi 3.000 km e non è che sono andata a spostare macerie, sono andata in luoghi dove le macerie sono già state spostate, dove sono cominciati i lavori, dove sono cominciate le opere. Quindi io ho questa possibilità di vedere tutti i 138 comuni nella loro completezza, vedo i limiti, vedo i luoghi dove le cose sono più indietro, vedo però anche luoghi nei quali ci sono state tante ripartenze. Ieri sera non sono potuta andare per motivi personali a Pieve Torina dove è stato inaugurato il nuovo centro commerciale, mi sarebbe piaciuto andare ma non sono riuscita, ma ripeto, quattro giorni, 3.000 km e ho visto tante comunità che con sforzi sicuramente importanti mi hanno dato segnali. Sono stata a Campotosto in Abruzzo dove c'erano centinaia di persone ad inaugurare, ad aprire questo centro polivalente per la comunità. Quindi se da una parte non mi nascondo i problemi, non li ho nascosti nemmeno ieri, perché figurarsi se c'è una cosa che caratterizza il nostro operato di questo tempo è il realismo, però dall'altra parte non possiamo nemmeno nasconderci che tante cose sono partite e io credo che sia giusto valorizzarle, guardate, anche per dare fiducia a quei luoghi nei quali ci sono più problemi e più difficoltà. Una cosa che magari è passata sotto silenzio, ma abbiamo incontrato i sindaci di Castel Sant'Angelo sul Nera, Visso e il commissario di Ussita con i quali abbiamo condiviso per esempio percorsi dove anche lì, dove sapete che ci sono problemi idraulici, idrogeologici, anche molto più complicati rispetto ad altri territori, per esempio c'è la possibilità di cominciare a fare tante cose e stiamo cominciando a farle. Quindi capisco, non mi sottrago, poi conosco anche un pochettino i meccanismi della rete, ma dall'altra parte rispetto alla visione puntuale di chi sta vivendo il terremoto io ho anche l'obbligo e il dovere di avere una visione generale, altrimenti non farei quello che sto facendo e che soprattutto devo fare. Credo che questo tavolo tecnico dove erano seduti professionisti, ingegneri, geometri, architetti, avvocati, commercialisti, dove era seduta l'amministrazione, dove era seduto il commissario, ha dato quantomeno un inizio di lavoro reale per il futuro. È chiaro che oggi sono state soltanto sottolineate delle problematiche. Dal mio punto di vista ancora una volta si dimostra come sia essenziale dare ad ogni comune, ad ogni territorio la propria medicina. Io tengo a precisare, non dico assolutamente togliere qualcosa a qualcuno, ma ancora di più dopo questo incontro ho la ferma convinzione e consapevolezza che il governo deve prendere coscienza che intervenire sul cratere è assolutamente indispensabile per, ripeto, andare a ragionare e ad usare un bisturi specifico per ogni comune. Se non facciamo questo io temo che nel calderone del tutto abbiamo bisogno di tutti o di tutti abbiamo bisogno di tutto non ne usciremo fuori né con le tempistiche né pure con i risultati. Sono contento di una cosa, alla fine della riunione ho precisato che in linea con quello anche che ha detto prima di me il presidente del CUS e il presidente della CONTRAM, il dottor Belardinelli, che forse il governo dovrebbe ben pensare di mettere qui un ufficio del commissario perché noi abbiamo bisogno, secondo dopo secondo, minuto dopo minuto, di interfacciarci su tanti argomenti non basta scrivere una lettera ed avere una risposta, passano tempi biblici è necessario quotidianamente andare a risolvere le problematiche e mi pare di aver spuntato anche con facilità e soddisfazione, apparente da parte del commissario che poi penso ne ha veramente apprezzato la richiesta, una possibilità di avere un incontro almeno ogni dieci giorni, quindi quelle tre barra quattro volte al mese dove io potrò recarmi anche a Roma per discutere caso per caso e tema per tema e abbiamo visto che i problemi sono tanti, i temi da risolvere sono tantissimi non mi pare sinceramente che ci sia una risposta certa alle risoluzioni adesso metterò per scritto alcune situazioni il carcere, sì, mi pare che la risposta è stata sì, il carcere si fa però poi il ministero deve mettere i soldi e io onestamente non ho la certezza che il ministero metta questi soldi ho la fiducia sul ministero, sul ministro ho fiducia su tutti gli organi istituzionali ma la certezza è un'altra cosa e ce lo ha insegnato proprio su questo tema quello che è accaduto ad un carcere che doveva ormai essere prossimo alla realizzazione e che di oggi non abbiamo più notizia e nemmeno la possibilità di farlo quindi è chiaro che forse posso sembrare un sindaco che va troppo nel sodo nello specifico contrariamente a quello che qualcuno forse a volte pensa di me cioè che intervengo bonariamente la bontà e il buon modo c'è sempre però voglio delle risposte certe non le voglio per me, ma le voglio per i miei cittadini e per tutti coloro che stanno soffrendo personalmente, psicologicamente, umanamente, commercialmente da padri, da madri e da figli un evento drammatico che veramente nella storia di questa città non si ricorda credo se non guardando ad una guerra Si aspettava anche una risposta per quanto riguarda il piano di ricostruzione e il progetto Cucinella che però non c'è stata perché addirittura il commissario non conosceva per nulla questo progetto Si, io ne avevo parlato con il commissario Irrani avevo parlato con il presidente della regione e devo dire la verità non avevo assolutamente scritto nulla ma ritenevo anche che non doveva essere il sindaco a scrivere qualcosa su questo tema scriverò in questi giorni di sicuro però ho avuto la consapevolezza che io non posso investire tempo che è oro attraverso lettere in attesa di risposte e poi ancora lettere io ho bisogno di chiudere in maniera concreta la mia campagna elettorale quando mi sono candidato a sindaco ho sempre sostenuto ma praticamente ecco riprendo anche se non ho mai lasciato questo termine praticamente praticamente devo continuare un progetto iniziato dall'architetto Cucinella e lo continuerò mettendo a bando di gara così come la legge mi consente mi obbliga giustamente di fare il percorso certo non lo lascerò in stand by e neppure in attesa di risposte che non so quando arriveranno noi dobbiamo guardare ad un futuro ma il futuro è oggi